Si registra un calo nei dati relativi ai nuovi contagi da Covid-19, con l'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute che indica 13.197 nuovi casi in tutta Italia, di cui 820 in Sicilia. Il dato relativo alla provincia nissena nelle ultime 24 ore segue l'andamento nazionale, con 28 nuovi pazienti positivi, tutti in isolamento domiciliare. 12 sono di Caltanissetta, 8 di Gela, 2 di Mazzarino, 2 di Milena, 2 di Riesi, 1 di San Catalto e 1 di Santa Caterina Villarmosa. Ricoverato in degenza ordinaria un paziente di Caltanissetta, mentre sono stati dimessi dalla degenza ordinaria un paziente di Caltanissetta e uno di Santa Caterina. Il dato dei guariti doppia quello dei contagi, sono infatti 62 le persone che si sono lasciate alle spalle il virus. Nel dettaglio 19 sono di Gela, 17 di Caltanissetta, 6 di San Cataldo, 5 di Niscemi, 4 di Milena, 2 di Acquaviva Platani, 2 di Campofranco, 2 di Mazzarino, 2 di Mussomeli, 1 di Bonpensiere, 1 di Riesi e 1 di Sutera.